Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Quindi lasciate un like per questo ultimo pack opening di FIFA 20, mostratemi tutta la vostra forza e notiziona siamo ufficialmente ritornati con le live ragazzi. In descrizione nel primo commento trovate il link per vedere le mie live, streamerò tutti i giorni ragazzi, ho intenzione di streamare tutti i giorni dalle 9 e mezza in poi. Abbiamo la ruota, abbiamo Mac, abbiamo la weekend league, abbiamo i peak, c'è tutto ragazzi, c'è tutto. Quindi link in descrizione per le nostre live e quindi ammiriamo la bellezza che c'è in questi pacchetti oggi raga. Sinceramente credevo che a Mbappé gli avrebbero dato il 99, visto che per ogni lega che è uscita adesso c'era sempre un 99. Pensavo che Mbappé lo prendesse, invece no, forse è troppo giovane, la IE non vuole dargli questo privilegio troppo presto. E quindi andiamo a vedere cosa troveremo ed eccoli, buttiamo un po' di crediti, ti prego è pieno di gioie, è pieno di gioie. No, aspetta, no, no, non è vero, no, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Ho visto il blu, illuso malissimo. Pensavo seriamente di essere, ecco, niente, niente raga, no, 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 no. Questi vanno più veloci di quelli della Serie A ovviamente, ce lo aspettavamo. Di nuovo Champions Edition! Se mi ha ridato Nana, raga io me lo tatuo qua o Nana. No, mi ha dato Wijnaldum, ma mi ha dato. Dai che sei tozzi, e dai che non è tozzi, neanche walk out! Mi stanno prendendo in giro, qua mi stanno prendendo in giro. Dammi un tozzi, un tozzi. No raga, neanche un walk out puzzoso mi ha dato. Luis Alberto me lo dà adesso, che fino a un'ora fa era tozzi. Troll Master, dammi un tozzi, questo è tozzi. Non è tozzi? No raga, no, mi stanno prendendo in giro. Io già ne ti spacco a metà oggi. Lo stanno facendo apposta, ma che cazzo? Dai un tozzi, un tozzi. Raga, no, non è vero, no, non è vero. Eravamo partiti benissimo con quelli della Liga. Poi settimana dopo settimana è andata sempre più precipitando questa cosa. Oh, dammi un po'. Oh, alleluia! Alleluia! Ti prego! No, non è, non è, non può essere. Non può essere, esatto, 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 esatto. Chi mince? Almeno ci ha dato un tozzi, certo. Io vorrei quelli della Legan, magari. Back to back, please. Back to, back to sorella. Beh, sta a venire in coccolone. Cioè, un solo tozzi su nove pacchetti, uno solo. Dai che me lo fai aprire. Ok, forse questo è l'ultimo, raga, perché stanno finendo. Serio? C'è, ma... Raga, c'è... Di nuovo un'ana, questa volta normale. Dai, dai, fammela aprire un'altra. No, sono finiti. Sono finiti. Sono finiti. C'è, raga, uno solo. Questi da 100k, raga, non li apro più. E niente, appunto, aspettiamo i pacchetti da 125 arrivati a questo punto. Eccoli! Ti prego! Peggio di prima, non è umanamente possibile. Veramente, non è possibile. O forse sì. Dirlo tutto il tempo. Tanto mi sento male, io lo so. Tanto mi sento male, io lo so. Ti prego, tozzi. Dai, è un motm. È un motm. Ma che motm ci stanno, raga? Neanche li ho visti. Sì, vabbè. Sì, 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 vabbè. Però almeno girando abbiamo trovato qualcosa. Non lo so, ragazzi. Lo tengo. Può essere che vale niente. Non farà sicuramente niente. Riproviamoci. Girando. Tanto che ci abbiamo da perdere? No, una scala mazzia. Ho visto che girando succede qualcosa. Dai, su. No. Però, aspettate, un walk out. Almeno questo. Almeno questo è un walk out. Oh mio Dio. Yei pareco. Che bello. Io continuo a girare. Perché girando troviamo robe diverse dagli oro normali. Oh mio Dio, sto andando per tutta la stanza. Sto a fare i cerchi completi. I cerchi nel grano. I cerchi nel grano. Ora mi sento malissimo. Già mi gira la testa. Ho appena mangiato, non è il caso. Vediamo. E un altro Mothm. Peggio di quello di prima. Perché almeno quello era un 86. Eh, boiata. Sì. Questo fac opening è una boiata. Ormai va così. Oddio. Oddio. Raga. Non ci ha dato un tozzo fatto bene. Ancora un'ana. Basta. Io ho capito. Perché FIFA ha imparato. Ha visto che spendevo una barca di soldi in FIFA Points. Ora che apro con i crediti normali. niente più. Yes. Sono arrivato al limite tecnico delle mie facoltà mentali. Perché non mi sta dando nulla, raga. Cioè non mi sta dando nulla. Cioè Tadic. In ogni forma e colore me lo dà Tadic. Non giro mai più. Non giro mai più. Non giro mai più. Niente. Almeno a walk out. Raga. I toz non esistono. Modric. Modric. È il migliore di oggi. Il che fa sorridere. Allora raga. Questo è quello che ho trovato in questo primo giorno di toz della Legan. Un solo toz. Ovviamente manco per sbaglio della Legan. Questo è il primo giorno. Ora vedrete un taglio. Ma passeranno 24 ore. E ci riproviamo. Ed eccoci. Tornati. Oddio. Non hanno messi pochissimi. No, 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 no. Non mi aspettavo così pochi. Ok. Un cazzo, un cazzo, un cazzo. Madonna santa. Ma non posso fare nulla. Madonna santa ragazzi. Che presa per il culo. Giriamo. Ma che ti so a girare ormai. Ma fammi una donna. Non lo devo fare. Mi sento malissimo. Dai che questo ha portato bene. Non è vero. Sta succedendo qualcosa. Non è possibile. Oh sì. Vabbè, 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 vabbè. Uno delle retivisie. Oh, nessuno della Legan. È follia. Raga, non è possibile. Vado per i 4 milioni spesi. C'è Godin. Mio Dio. Mi si è rotto il gioco. Sì, vabbè. L'altra volta boiatà. Oddio. Oh, mi sto sentendo male. No, no, ragazzi, non esiste. Cioè, di solito quelli da 125 mi davano gioie. Un altro, un altro toz merdoso. Io se faccio un'altra girata così vomito. Madonna santa, ma. Non dovevo mangiare prima di fare questa cosa. Prego, un toz buono. Uno della Legan, almeno. Uno della Legan. Non è vero. Mi manca poco per i 4 milioni di crediti spesi su questi tozzi della Legan. Quelli dove ho speso di più, in termini di crediti. E quelli dove ho trovato di meno. Cioè, non è possibile. Sono finiti. Raga, sono finiti. Di nuovo. Guardate, 4 milioni di crediti. Cosa vi fanno trovare? Cioè, tutta sta roba insieme non vale neanche un milione. Mi ha veramente trollato. Cioè, Dio santo. Ma veramente? Quest'altro vale come un topo morto? Non ha veramente senso. Visto che stiamo in ballo, no? Cioè, apriamo anche questi. Se qui trovo i toz, su questi trovo i toz, ragazzi. Cioè, smetto di credere in qualsiasi cosa. Ma, cioè, di che parliamo? Di che parliamo? I Champions Edition. Questi me li dà a blu. Questi me li dà a blu. Vital. Attenzione. Attenzione. E' meglio questo dei pacchetto che quelli di prima. Lumina C. Non li hanno messi. Nel mio gioco non li hanno messi. Cioè, nel mio gioco non li hanno messi i toz, ragazzi, della Legan. Ragazzi, c'è... C'è l'ultimo pack opening di FIFA 20. C'è... No, ma non ci sto, ragazzi. Non ci sto a chiudere in perdita. Devo rattoppare la fuga dei miei crediti. Quindi, siamo tornati su Footloot. In descrizione, come sempre, trovate il link. Quindi, signori. Pacchetto di Legan. Lo stiamo giocando con la ruota oggi. Quindi, possiamo tenerci tutto. Vediamo un po' quale toz mi ha dato a Uar. Spero solo di fare cassa. Io ci credo. Io ci credo. Mamma mia. Non sta salendo. Non sta salendo. Oh, mio Dio. Tiago Silva. Ma quanto poco vale. No, no. Non mi arrendo. Non mi arrendo. Non mi arrendo. Io sto salendo. Questo è Mbappé. Questo è Mbappé. Questo è Mbappé. È Mbappé. È Mbappé. È Mbappé. Sì, è Mbappé. Ragazzi, è fatta. Abbiamo trovato i tre migliori toz delle ultime tre settimane. Messi, Ronaldo e Mbappé. Almeno su FUTRUT qualcosa si trova. Ecco qua. Yes. Un po' di cash. Questo, visto che è l'ultimo pack opening, ora me li passo tutti e investo sulla squadra, ragazzi, che devo fare la weekend league. Quella la farò in live, come sempre, in descrizione e nel primo commento trovate il link per seguirmi in live. Quindi, ragazzi, per questo ultimo pack opening ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere nei commenti voi cosa avete trovato per questa leggan o in generale per tutti quanti i toz che sono usciti fino ad adesso. Quindi, per oggi, come ho già detto, è tutto. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, lasciate un commento. Sodin vi saluta. Bello. Grazie.